Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna fino a domattina resta chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sul raccordo Bettolle-Perugia fino a domani chiuso lo svincolo di Cortona, in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Perugia. Sulla statale Trebbi-Stiverina fino al 22 dicembre scambio di carreggiata tra i chilometri 149, 550 e 144, 700, con chiusura dello svincolo di Pieve-Santo Stefano Sud, in entrata e in uscita in direzione Orte. Sulla strada regionale Due Cassia vari sensi unici alternati e restringimenti di carreggiata nel territorio comunale di Barberino-Tavarnelle. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!